BELLA RACAZI BENTRO DIGI SUL CANALE DEI GRANAS Siamo tornati con un nuovo episodio, l'ultima l'abbiamo persa, questa pure la perderemo Perchè c'ha buggati anche con queste No 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 basta, mi ho detto stavartina se mettiamo di impegno a costo di star zitti E la vinciamo Si però io dovrei far vedere Balotelli, Sciurle, Fabricas, Runei Cioè non è che... Balotelli fa schifo Non è che fa schifo BONO Vabbè cazzo che fai là Ho capito ma là che fai C'ho trovato il modo per andare, intanto sai che qui lì non segni quindi c'è Quante volte ci ho segnato? No no BALLO Si nooo non ci voglio crede Ma come cazzo fai? Oh no Era pure il poligio, no non era poligio, no non era poligio così No no Bel no, gliel'ha data male Ma comunque non era il barbo quello No infatti chiaro non gioca Però vabbè Raggedi I Si ho visto Guain Guain Il Guaito Il Guaito Il Guaito Il Guaito Mi sembra sempre che va dentro quando ci esce Bella la palla per Cole Cole di fisico che non ha Infatti si vede ha perso palla Oh Eccolo subito La data da lui La data da lui A quello più difficile da da Perché ti stai dicendo stai buttancacciata? Cioè No ma che ha voluta Altaversi Guain Però non ha fatto un tempo Eh battene e seguimi a me coglione Invece che andando addosso con quello Dai ma quello che cazzo è stupido Oh Oddio 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 Odio Cazzo Sto rosicando eh Sto giusto Non ci siamo fanno Povla a me sta palla de merda Oddio Non è fuorigioco Non è fuorigioco Non è fuorigioco Che madonna Non taglio Un brivido posto facci tuo ultimo magari mori 15 come benvenuti non salta più l'uomo no fuori gioco di chi? no 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 non era fuori gioco che fa' vabbè non è vero io ero avanti da un po' per che cazzo vedete mori male vedete mori un po' male 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 no hai tanto tiro ah pensavo di ipnotizzare il portiere un tiro in porta eh proprio tu madre tu madre no vabbè dai tu madre una delle tinte più brutte della storia non l'ho dato a via venire oh porco cane oh non so più che fa' so più che dalla oh quel mio ha tolta che cazzo oh mi fa' ah ah sono credibili guarda guarda che stoppe di merda ma che è eh ma che cazzo è ma che stai a fa' eee 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 ee eee eii eee 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 e spanning c'è eeenie e pericolino porco 2 fischiato un uomo da voglio credere questo non ha fatto un cazzo grande continua con fatti passaggi continua vai che bucio di culo oh porcazzo che devo per golla no guarda guarda che la confusione ci sguazza questo una confusione o marco 2 mamma mia ma che vuol dire ma come fa a sbagliare col corpo di testo no ma perchè una volta che faceva queste cose del gelvigno eeeh dai porco cani porco cani porco cani oh no perchè ma perchè madonna ciao ciao chi utile non lo so ciao ciao finisce qua vabbè un pareggio comunque è fondamentale perchè comunque dobbiamo fare una vittoria per poi passare abbiamo due parti per farlo quindi dai e così dai e così questo pareggio va benissimo ci vediamo alla prossima e quindi benissimo a 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 b a e a